Siamo con Nicola Molteni, sottosegretario agli interni. Onorevole, siamo ancora con un'altra guerra. È una settimana che è scoppiata un'altra guerra in Israele. Ma noi dobbiamo assolutamente difendere il diritto di Israele di esistere, di resistere e di difendersi. Credo che il governo italiano, il popolo italiano non possa che sostenere le legittime rivendicazioni di Israele. È l'ennesimo conflitto. Dobbiamo lavorare e da questo punto di vista si sta lavorando a livello internazionale, a livello globale per evitare che ci possa essere, e questo è l'altro vero grande rischio, un'escalation di questi fatti. Abbiamo visto immagini drammatiche, bambini uccisi, decapitati, giovani ostaggi che sono stati tolti dalle proprie famiglie, un fatto di una barbarie inaudita, un'aggressione da parte del fondamentalismo islamico, va detto con forza, stiamo parlando di fondamentalismo islamico che va contrastato, va combattuto, che vuole minare i principi e valori di uno Stato, qual è lo Stato di Israele, che si riconosce perfettamente nei valori occidentali ed europei. Per questo noi dobbiamo difendere la posizione di Israele e dobbiamo però lavorare per evitare che ci sia un'escalation non solo nelle aree limitrofe ma anche nei territori europei. Dobbiamo essere consapevoli e convinti che difendere i valori di libertà e di democrazia vuol dire difendere i valori del mondo occidentale e del mondo europeo. Il governo si è schierato con Israele ma nello stesso tempo sta lavorando per arrivare alla pace o quantomeno ad una tregua. Ma questo vale per tutti i conflitti, anche per il conflitto ucraino-russo dove ovviamente c'è un atto ostile di aggressione da parte della Russia nei confronti dello Stato ucraino che ha il sacro santo diritto di potersi difendere e qui abbiamo un atto ostile da parte di un'organizzazione terroristica qual è Hamas che aggredisce un popolo sovrano come il popolo di Israele. Noi dobbiamo difendere i principi di libertà, i principi di democrazia e poi secondo me rimane un principio fondamentale, universale e globale, qual è il principio della pace. Quindi bisogna lavorare per arrivare alla valorizzazione di un'azione diplomatica per la pace e lo si fa ovviamente con la capacità diplomatica che anche da questo punto di vista il nostro paese che gioca un ruolo fondamentale in questi scenari sta mettendo in campo. Mi piace ricordare che in un momento come questo io ho l'onore e la fortuna di stare in un ministero importante quello è il ministero dell'interno, ovviamente l'attenzione, la vigilanza che il ministero dell'interno attraverso gli organismi territoriali che sono le prefetture sta alzando il livello di attenzione e di allerta, non c'è un allarmismo però evidentemente mai come oggi ne dobbiamo in un momento complicato e delicato come questo garantire quella vigilanza, soprattutto dei luoghi sensibili, importanti per garantire un valore fondamentale, quello è il valore della sicurezza. Siamo su due fronti di guerra, Ucraina e Israele. Come farà il governo a far fronte a questi due fronti di guerra che in Italia non mancano del resto tanti problemi? No, ma noi facciamo parte di un'alleanza che è l'alleanza atlantica che rappresenta quei valori di libertà, di democrazia e di pace nei quali ovviamente il nostro paese indipendentemente dai governi si deve riconoscere. L'Italia ha un ruolo fondamentale nell'alleanza atlantica, si riconosce in alcuni organismi internazionali e globali come sono quelli della Nato, stiamo vivendo momenti drammatici perché le aggressioni di cui stiamo parlando da un punto di vista militare che hanno causato morti soprattutto tra civili, soprattutto tra bambini, minori ma anche adulti deve evidentemente portare a chi ha delle responsabilità di governo a livello statuale, a livello nazionale a fare delle valutazioni per avviarsi verso un percorso ovviamente di pace, di mediazione sapendo però quello che ha fatto a massa di una gravità inaudita, stiamo ripeto parlando di un'organizzazione terroristica che attraverso un vero e proprio assalto armato ha minato la libertà, la democrazia e l'esistenza di uno Stato. Noi non possiamo neanche lontanamente tollerare che qualcuno possa mettere in discussione l'esistenza dello Stato di Israele. Quindi noi da questo punto di vista giochiamo una partita seria a livello diplomatico internazionale e dopodiché, lo ripeto, il Ministro dell'Interno e il Governo tutto deve ovviamente presidiare quei valori e quel perimetro di libertà, democrazia e sicurezza che stanno alla base di uno Stato democratico come il nostro e soprattutto dei principi costituzionali su quali si fonda il nostro Stato. Un anno di Governo, ormai è passato un anno di Governo, quali sono stati i problemi che maggiormente hanno assillato il Governo di Giorgia Meloni? Innanzitutto dico che stare al Governo è complicato, stare al Governo è complicato sia sul Governo di una comunità locale, sia sul Governo regionale, provinciale e nazionale. Quando si sta al Governo serve responsabilità, dedizione, impegno, senso di abnegazione, capacità di ascolto. Credo che questo Governo, forte di un importante mandato elettorale, anche in un momento complicato, da un lato la crisi economica e che ha determinato anche una crisi di natura energetica, dall'altro lato le conflittualità, non solo quelle a est, ma anche le tante conflittualità a sud nel Mediterraneo, non ultime a questi Medio Oriente, ovviamente credo che abbia portato il Governo ad assumere atteggiamenti responsabili, seri, anche prudenti da un punto di vista economico, cercando di mantenere gli impegni. Io dico sempre che un conto sono le campagne elettorali, un conto poi quando ti assumi la responsabilità di governare i processi decisionali di un Paese, credo che questo Governo stia facendo bene e stia governando in modo serio, equilibrato, intelligente, con una prospettiva di sviluppo del nostro Paese e quindi adesso ci avviamo verso un percorso che sono le elezioni europee, anche lì credo che ci si possa aspettare un cambiamento importante, il tutto per poter garantire e migliorare la vita in questo caso dei cittadini italiani, delle aziende italiane, delle imprese italiane. Siamo in un territorio che vive di impresa, che vive di economia, che vive della capacità e della laboriosità del sistema economico, noi abbiamo bisogno di aiutare soprattutto che è in difficoltà. Prima si diceva la comunità, il valore della comunità è importante, nella comunità nessuno deve essere lasciato indietro. Ecco, questo Governo si sta occupando in modo particolare di non lasciare indietro nessuno, più bisognosi, sostenendo i renditi più bassi, col taglio del cugno fiscale e arriverà una legge di bilancio che andrà esattamente in questa direzione, di non lasciare indietro i più bisognosi e i più fragili. L'immigrazione, il suo ministero è veramente coinvolto in questa tematica e nei grossi problemi che sta provocando? Io dico così, il tema è il tema vasto, complesso, globale, strutturale, io dico che c'è una buona immigrazione e una cattiva immigrazione. La buona immigrazione è quella immigrazione utile e necessaria allo sviluppo economico anche di un territorio, cioè quell'immigrazione formata, specializzata, che diventa un'opportunità per il territorio e il Governo deve valorizzare quel modo, quella forma di immigrazione. Pensiamo al decreto flussi, questo è il Governo che ha fatto un decreto flussi terrenale di 450 mila quote, quindi quella è l'immigrazione buona, di qualità, utile e necessaria allo sviluppo del nostro territorio. Poi c'è un'immigrazione che secondo me è un'immigrazione cattiva, che è quella legata al traffico di esseri umani, alla tratta di esseri umani, alle attività criminali di chi sfrutta le persone e da questo punto di vista l'impegno del Governo deve essere da un lato quello di contrastare in maniera globale anche col sostegno europeo le forme di immigrazione illegale e dall'altro lato quello di garantire accoglienze e ospitalità che scappano da guerre e da persecuzioni e attuando le politiche dei rimpatti nei confronti dei migranti economici. Credo che l'Europa, che oggi è stato il vero convitato di pietra sul tema migratorio, credo che l'Europa deve fare uno scatto in avanti, perché se il problema è un problema comunitario la risposta non può che essere una risposta comunitaria, quindi noi ci attendiamo dall'Europa più responsabilità e soprattutto più attenzione sul tema migratorio e soprattutto sul fronte italiano. Dico sempre che chi sbarca a Lampedusa non sbarca in Italia ma sbarca in Europa, in questi anni l'Italia è stata lasciata sola, mi attendo maggiore attenzione e maggiore sensibilità da questo punto di vista.